ciao oggi faremo un video bellissimo faremo un tutorial mi chiedete sempre come faccio a fare a farle spingere con le gambe ci sono le mie ginnasse che devo fare il rimbalzo e tolgono tolgono le gambe non spingono hanno sempre le gambe molli quindi adesso con ale me la presento lei alessia comina faremo un tutorial proprio sul primo elemento della griglia silver del volteggio breve rincorsa battuta in pidana salto di estensione e arriva piedi uniti così almeno vi dico anche tutti degli esercizi per spingere bene con le gambe ed è arrivata anche già di che mi aiuta a sistema reale così vi facciamo bene vedere le posizioni braccia in fuori allora i piedini piedi uniti piega le gambe primo esercizio stendo tieni una mano già di per favore vado bene sulle punte attenzione che quando andiamo sulle punte i talloni sono più su che posso il collo del piede è unito e le dita dei piedi sono aperti ancora facciamo questo esercizio ancorale piego stendo sulla punta giù piego stendo sulla punta giù adesso andiamo su una superficie un po più morbida e facciamo dei rimbalzi ale brava e tutte le volte cerco di stendere di più più possibile le punte come fatto l'esercizio in precedenza brava ok adesso andiamo qua ho messo dei cubi per terra e via gli salti viale prima senza stendere le gambe quindi con sulle ginocchia stendendo le punte dei piedi op 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 brava ancora torna indietro ok quando lo fanno bene con le gambe piegate proviamo a farlo con le gambe tese ok sempre meglio farlo su una superficie morbida prima di farlo in pedana ok va bene prossimo esercizio vai sul cubo grigio mettiamo davanti il rimbalzino così più morbido le prime volte e da qua con la gamba che fai l'affondo per la ruota scendi pennello stop ok anche qua devono per forza arrivare con le gambe dure perché se no prova arrivare con le gambe molli e fa uno stop quindi vai gambe dure e rimbalzo bravissima la superficie morbida quindi non ha paura andare con le gambe tese per spingere ancora brava non abbiamo pensato alle braccia adesso pensiamo anche alle braccia quindi le braccia fanno un piccolo cerchiolino fuori e vanno in alto brava più piccolo bravissima ok se ricordatevi sempre che per fare questo lavoro e per avere un risultato ottimale bisogna sempre fare il lavoro di tenuta per esempio sdraete a terra ale schiena a terra già da prendi le braccia fuori prendi le punte dei piedi di ale ale rimani col bacino durissimo e vado su brava e scendo e su e scendo porto le braccia in alto adesso e facciamo la stessa cosa brava il contrario pancia giù premi bene con le mani a terra già da cominciare a tenere dove c'è le cosce perché sono troppo difficile e la portiamo su un bastone bravissima e scendo vai su e scendo man mano che diventano più forti vai un pochino più indietro durissima e scendo e brava ritorniamo alle nostre spinte qua ho messo dei cerchi per terra per aiutarle a capire che si salta in pedana con due piedi e si corre mettendo i piedi in ogni cerchio allontana bene togli quello nero e mettilo dietro ok perché sennò di solito corrono battono prima della pedana e poi a piedi pari salgono sulla pedana di solito fanno così proviamo invece rincorsa battuta e arrivo sul tappeto rosa le braccia fanno il piccolo cerchio come abbiamo fatto là sul rimbalzino e vanno alle orecchie brava guarda che quando eri in volo eri un po molle bella dura come l'esercizio che hai fatto a terra con la giada e brava dandogli riferimento del cerchio dovrebbero evitare di fare quell'errore fai vedere Ale corro batti prima della pedana poi spingi sulla pedana e poi scendi ecco di solito fanno così ok è importante anche sapere che l'ultimo cerchio nel cerchio giallo vai il piede quello che rimane dietro nell'affondo quindi devi lanciare il piede dell'affondo tu che gamba fai l'affondo per la ruota il destro quindi dovresti arrivare nel giallo col piede sinistro esatto brava ancora una volta e brava ok facciamo un altro esercizio più semplice prendiamo solo il giallo allora esercizio un pochino più semplice metto il piede sinistro nel cerchio slancio la gamba destra e esco ok senza fare le giambè ma unendo i piedini bravissima esatto ancora bravissima e unisco un assemblè esatto adesso fai assemblè pennello brava ancora brava ovviamente se invece fanno la ruota di sinistra il piede nel cerchio quello destro e si lancerà la gamba sinistra ok è brava va bene riportiamo il cerchio a suo posto e rifacciamo vedere ancora una volta rincorsa spinta verso l'alto e arrivo brava più piccolino il cerchio se riesci cerca di stoppare l'arrivo brava anche l'arrivo vediamo come è l'arrivo stoppato quindi il bacino rimane sopra i piedi le braccia le mettiamo fuori o leggermente avanti ok perfetto va bene speriamo che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate tanti like e ricordatevi di attivare la campanella per non perdervi nessun nostro nuovo video e mettetevi nei commenti che tutorial avete bisogno così la prossima volta ve li facciamo ciao 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 ciao